Buonasera e benvenuti a questa seconda edizione del contest di cucina i sapori della filiera. Siamo qui sul lungomare Caracciolo all'interno dell'evento Bufala Fest. Il contest di cucina è in svolgimento e io approfitto di questo momento per lasciare tranquilli i concorrenti e per andare invece a presentarvi chi fa parte della nostra giuria di oggi. Innanzitutto abbiamo il nostro giurato tecnico, il nostro chef che non solo aiuterà i ragazzi nello svolgimento dei loro piatti qualora ne avessero bisogno, anche se in realtà mi sembra. Innanzitutto vi ripresento, abbiamo il presidente della FIC Polonia, Federazione Italiana Cuochi, Anuelo Serra. Gli passo la parola così magari ci spiega chi è, da quanto tempo fa questo lavoro e cosa vuole augurare a questi due ragazzi che sono in competizione, appunto ovviamente è una competizione amichevole e cosa potrebbe consigliare loro, su cosa puntare insomma? Buonasera, innanzitutto ringrazio l'organizzazione, ringrazio lo chef Antonio di avermi dato qua la possibilità di essere presente in questo importante evento italiano della gastronomia e della cucina italiana in Campania in maniera particolare, tutto basato sulla bufala, su tutti i prodotti del territorio, prodotti dell'eccellenza italiana. In Polonia io rappresento la federazione, sono il presidente della delegazione italiana per la Polonia, sì. Grazie ancora Giovanni Cosenza della Gazzetta del Gusto e adesso passo a presentarvi il responsabile dell'Accademy Fib Campania, Federazione Italiana Barman, Antonio Faracca. A lei invece rivolgo un'altra domanda. In una delle vostre schede di valutazione, diciamo un parametro di valutazione, sarà, diciamo, nella degustazione il profumo, l'equilibrio e il gusto che daranno i piatti dei concorrenti. Quanto è importante, insomma, stabilire un certo accordo tra le varie parti nella presentazione poi finale di un piatto? La ringrazio di questa domanda e ringrazio anche Antonio Arfè per avermi invitato a questa manifestazione che penso che questa sia una vetrina proprio per la Campania. Ci troviamo in un luogo a forte vocazione turistica e quindi l'arte della cucina, io dico sempre, che è una scienza. Io insegno anche all'Istituto Alberghiero, l'Isis Giustino Fortunato e i ragazzi, diciamo, sono poi il patrimonio del futuro per poi immettersi nel settore food and beverage, nel settore turistico alberghier. Lei mi domandava prima la degustazione. Oggi la degustazione è fondamentale perché nella degustazione noi troviamo l'immagine di un territorio. Cioè, non a caso, questa manifestazione ha un tema importante, il benessere. E attraverso la degustazione noi possiamo trovare i profumi della Campania Felix. Quindi noi parliamo della Campania Fertile perché, logicamente, anche per il discorso che oggi si parla della cosiddetta terra dei fuochi, noi dobbiamo cercare anche di riprendere quei profumi della nostra Campania Felix, perché quelli sono fondamentali, e creare il giusto equilibrio, creare quell'armonia di sapori. Perché poi quell'armonia di sapori crea il piatto, crea il piatto della territorialità. Noi diciamo molto spesso mangiamo quello che siamo, perché attraverso il piatto noi possiamo raccontare una storia, una storia di un territorio, narrare un episodio. C'è il piatto preparato in cucina con vari ingredienti, non è altro che una trattazione, non è altro che una sceneggiatura come se fosse un film, che poi attraverso il gusto, attraverso i sapori, noi riusciamo a immaginare e a capire, a cogliere quella che è la storia e l'origine del nostro territorio. Ringraziamo quindi Antonio Faracca per questa sua gradevolissima esposizione in merito e andiamo avanti per la presentazione del nostro ultimo giurato di oggi, che è Francesco Moccia, chef di Fratelli la Bufala. Ha grande importanza nel risultato finale del piatto, nella genuinità e anche appunto nei valori nutrizionali che sono sempre oggi alla portata di tutti praticamente. Salve, buonasera, sono Francesco. In primis ringrazio al Bufala Fest e ringrazio all'azienda Fratelli la Bufala che mi ha dato insieme allo chef di partecipare a questo evento. La genuinità è il frutto di un piatto, è la materia prima, in primis, che si elabora un piatto. Senza un prodotto genuino il piatto è, diciamo, ho detto tutto. Grazie. 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 Grazie.